Una ripresa cinematografica perfettamente fluida e stabilizzata è un pochettino il sogno di chiunque si sia mai cimentato nell'arte del videomaking. Oggigiorno abbiamo a che fare con telecamere dotate di sistemi di stabilizzazione interni che rendono sempre più semplice realizzare questo tipo di riprese, tuttavia nel momento in cui andiamo a stringere il nostro campo su un qualcosa di molto molto piccolo o andiamo a lavorare su scene dove necessitiamo di grande precisione lavorare a mano libera diventa assolutamente proibitivo. Questo per una serie di fattori. Vuoi che il nostro corpo non è in grado di mantenere la camera ferma esattamente come la vorremmo? Vuoi per il semplice fatto che realizzare dei movimenti camera precisi al millimetro è una cosa che molto spesso sfugge alle capacità anche del più bravo degli operatori? Ecco che entrano in gioco tutta una serie di dispositivi che servono proprio ad aiutarci nella stabilizzazione delle nostre immagini. Vi ho già fatto vedere diversi gimbal che utilizzo durante le mie riprese video, vi lascio le card per andare a riscoprire quei video in quanto si parla di device che sono ancora assolutamente attuali, dispositivi che vengono utilizzati tutti i giorni da videomaker in tutto il mondo per realizzare delle riprese fluide. Stiamo parlando di gimbal motorizzati a tre assi, quindi stiamo parlando di device in grado di stabilizzare la nostra camera nel momento in cui stiamo usando un grand'angolo, nel momento in cui stiamo facendo una ripresa ampia e stiamo facendo magari una camminata, quindi io li uso per esempio molto per fare degli shop tour, quindi per far vedere gli interni di un negozio, oppure per fare video real estate, quindi per far vedere gli interni di una casa, di un'abitazione. Ora in questo caso i gimbal a tre assi vanno benissimo perché ci consentono di realizzare delle riprese abbastanza fluide, bisogna imparare il passo del ninja, bisogna imparare a camminare in maniera da dargli meno scosse possibile, ovviamente quindi non è che comprando un gimbal automaticamente avremo delle riprese stabili, dovremo metterci del nostro o comunque avere un operatore in grado di gestirlo. Tuttavia tutti i possessori di gimbal scoprono molto presto che nel momento in cui vogliono realizzare delle riprese molto piccole hanno subito un grosso problema. Qui mi rivolgo ai possessori di una lente grand'angolare e di una lente macro, avrete sicuramente sperimentato in vita vostra come realizzare foto grand'angolari è molto semplice, viene molto bene anche a mano libera, mentre andare a realizzare delle foto macro comunque avvicinandosi molto al soggetto diventa molto complicato e comincia a diventare necessario utilizzare un treppiede così come avere un flash per cristallizzare l'azione in maniera tale da eliminare i movimenti. Questo perché quando noi andiamo a realizzare una ripresa di qualcosa di molto piccolo o comunque andiamo a realizzare una ripresa ravvicinata il minimo movimento diventerà improvvisamente gigante. Qui si vede veramente se uno ha la mano ferma perché nel momento in cui andiamo a realizzare una fotografia macro a mano libera è molto probabile che genereremo delle immagini contenenti micro mosso o anche un vero e proprio mosso perché la nostra mano non è abbastanza ferma, abbastanza precisa da rimanere in posizione il tempo necessario per poter scattare la nostra fotografia in maniera pulita. Ovviamente non dovete farvene un cruccio perché questo succede a tutti ed è per questo motivo che professionisti su youtube come nei corsi offline in tutto il mondo consigliano di utilizzare flash e treppiede per la fotografia macro. Ora nel momento in cui si parla di fotografia risolviamo il problema delle scosse sulla breve distanza semplicemente con un cavalletto o con dei flash abbastanza potenti da cristallizzare l'azione. In quel caso ce la siamo cavata così ma se stiamo realizzando delle riprese video in macro abbiamo un vero e proprio problema perché lì non possiamo usare il flash per cristallizzare l'azione, lì dobbiamo veramente essere fermi con la nostra mano. E allora che cosa facciamo? Utilizziamo un gimbal a tre assi? È possibile provarci ma vi assicuro che la ripresa non sarà mai così fluida come se avessimo utilizzato il dispositivo che sto per presentarvi oggi. Il brand è GVM che sta per Great Video Maker, un nome abbastanza altisonante che tuttavia devo dire mi ha lasciato abbastanza colpito perché durante la mia ricerca di uno slider motorizzato per le mie riprese imbattendomi in un brand con un nome di questo tipo ho subito cliccato sul sito web per andare a vedere qual era la sua proposta. Mi imbatto così nello slider motorizzato GR80. Si tratta come potete vedere di un bellissimo slider con una costruzione abbastanza solida e devo dire anche abbastanza carina. La lunghezza è di 80 centimetri quindi ha un'escursione abbastanza notevole. I fattori che mi hanno convinto a optare per questo slider rispetto ad altri sono prima di tutto il prezzo perché devo dire che questo slider viene via a un prezzo che non è per niente malvagio stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 400 euro. Vi assicuro che trovare uno slider motorizzato con una qualità dignitosa che riesca a reggere il peso di una fotocamera reflex o mirrorless non è per niente cosa scontata. È pieno di slider ma è pieno di slider non motorizzati ed è pieno di slider per cellulare quindi stiamo parlando di giocattolini su cui tutt'al più si può montare un telefono o una compattina o un action cam quindi device veramente piccoli. Quindi nel momento in cui ci mettiamo alla ricerca di uno slider motorizzato di qualità per poter andare a montare una fotocamera abbastanza pesante la nostra ricerca diventa veramente affannosa. Esistono diverse opzioni ovviamente però si rischia di andare veramente su quei prezzi perché la maggior parte delle opzioni in ambito professionale vengono pensate per videocamere cinematografiche o per vere e proprie camere da presa quindi stiamo parlando di slider motorizzati che costano dai 1700 euro in su. In questo caso ovviamente il prezzo è pienamente giustificato perché stiamo parlando di dispositivi che servono a reggere il peso di una RED o di una ARRI magari quindi in questo caso ovviamente stiamo parlando di una videocamera che costa 50.000 euro ovviamente 2.000 euro di slider motorizzato è perfino poco ma stiamo parlando di produzioni di altro tipo io sono qui oggi per parlarvi di una cosa che siamo in grado di comprare tutti non per parlarvi di qualcosa che è completamente fuori portata. Andiamo un pochettino a vedere che cosa c'è dentro nella borsa quando ci viene consegnato il prodotto. Partiamo proprio dalla borsa sì perché questo prodotto ci viene recapitato dentro in una borsa mi verrebbe da dire una bellissima borsa ma non lo farò semplicemente perché i materiali con cui è costruita non sono esattamente premium tuttavia è una borsa da trasporto con cui siamo in grado di portare in giro il nostro slider motorizzato evitando gli urti evitando gli insomma contatti che potrebbero danneggiarlo con altri oggetti. Io ho una grandissima considerazione dei brand e devo dire che in tantissimi stanno cominciando a farlo che ti donano una borsa nel momento in cui tu fai l'acquisto. Questa è una cosa che io tengo in grandissima considerazione perché nel momento in cui io sto spendendo 400 euro per fare il mio acquisto il fatto di avere inclusa una borsa da trasporto è una cosa che ancora non tutti fanno ed è una cosa che sicuramente mi fa propendere per un acquisto piuttosto che per un altro. Immaginatevi di aver speso 400 euro per fare il vostro acquisto e di ritrovarvi a doverne spendere altri 120 per comprare una borsa da trasporto. È assolutamente fastidioso non è vero? Nel momento invece in cui abbiamo già una soluzione tutto incluso in cui abbiamo il nostro prodotto con tutti i suoi pezzi e la sua borsa quindi con tutti gli alloggiamenti corretti per portarci sempre dietro tutto il contenuto secondo me è un plus veramente veramente notevole. Partiamo dalla borsa la borsa si apre con la sua classica cerniera e dentro ha dei vani in gomma piuma che ci permettono di alloggiare comodamente tutti quanti i nostri pezzi. Come potete vedere abbiamo il corpo principale del nostro prodotto che è rappresentato dallo slider in sé che andremo a vedere nel dettaglio più tardi. Abbiamo tutta una serie di altri vani dentro cui abbiamo la testa sfera che andremo a montare sul nostro slider e che servirà per orientare la camera perché nel momento in cui noi mettiamo la camera direttamente sopra lo slider non possiamo più fare nessun movimento. Invece altra grande cosa con questa testa sfera che viene fornita inclusa insieme nel pacchetto noi possiamo anche andare a orientare la nostra camera quindi sopra sotto tilt il piano danese insomma possiamo fare tutta una serie di scelte che altrimenti non avremmo potuto fare. Successivamente vediamo che abbiamo un alloggiamento che contiene batteria e carica batteria. Ora io ho già visto che questo device può funzionare anche connesso alla corrente vi dico che sono assolutamente intenzionato a procurarmi un adattatore che mi pare sia da 12v perché sono molto più tranquillo se posso attaccare il dispositivo direttamente alla corrente e farlo funzionare così relegando la batteria solamente a quelle poche volte in cui ne farò un utilizzo esterno ma che saranno poche volte perché lo so già perché comunque un dispositivo come questo almeno io lo utilizzerò prevalentemente per fare riprese in studio, riprese in luce controllata, riprese magari di still life o riprese di prodotto. Difficilmente lo userò per fare riprese in esterna perché in esterna utilizzo un gimbal e mi trovo comunque bene. Nel momento in cui devo fare un dettaglio piccolo allora vado a utilizzare questo slider. Nel momento in cui vado a realizzare un dettaglio piccolo ovviamente questo slider mi dà una precisione e anche un comfort di ripresa che con un gimbal non avrei mai. Proseguiamo nella nostra rassegna e vediamo che abbiamo il telecomando. Ora il telecomando devo dire che non è tanto bello perché al di là del fatto che non ha un gran design è proprio fatto di una plastica che non ispira tantissima fiducia. Non dico che sia fragile o che si rompa però al tatto sembra proprio un po' plasticoso. Tuttavia funziona benissimo quindi non ho grandi lamentele da fare. Vi dico solamente che il telecomando non è bellissimo da vedere ma è assolutamente funzionale. Il telecomando sul retro ha un alloggiamento per la batteria. Infatti la nostra batteria una volta caricata si innesta direttamente sul telecomando ed è proprio da lì che proviene l'energia che mette in moto il nostro slider motorizzato. Proseguiamo nella prossima tasca della borsa e vediamo che abbiamo una serie di cavi. Qui abbiamo la cavetteria standard che serve per connettere il nostro dispositivo al telecomando e a tutte le varie fotocamere e videocamere che possiamo voler utilizzare. Infatti abbiamo un cavo usb con una porta strana dall'altra parte che vi confesso non avevo mai visto. Una porta che serve apposta per essere connessa al nostro slider motorizzato quindi lo chiameremo semplicemente cavo di connessione. Questo cavo è abbastanza lungo ed è abbastanza rigido quindi è un cavo che ci permette di lavorare in maniera assolutamente agevole perché ci permette di stare abbastanza lontani dal nostro device e di comandarlo in tutta tranquillità semplicemente premendo i due tasti. Sempre all'interno della stessa tasca abbiamo tutta una serie di cavi e cavetti che servono per connettere anche la videocamera al nostro joystick. Abbiamo infatti la possibilità di gestire lo scatto direttamente dal telecomando senza più andare a toccare la videocamera. Questa è una cosa molto interessante perché nel momento in cui noi colleghiamo la nostra fotocamera o videocamera possiamo tenendo in mano semplicemente il telecomando andare a dirgli quando deve iniziare o terminare la registrazione andare a dirgli quando deve fare gli scatti. Questo può essere molto molto utile soprattutto se stiamo facendo timelapse o hyperlapse che sono degli stili fotografici e videografici in cui non bisogna più toccare la videocamera perché ogni volta che noi la andiamo a toccare potenzialmente la muoviamo generiamo delle vibrazioni quindi poter fare tutto da telecomando via filo è una cosa che non considero nemmeno un plus è essenziale quindi bravi di nuovo perché ci avete pensato. Ovviamente proprio per questo motivo è compreso all'interno della cavetteria anche un prolungatore quindi nel momento in cui noi andiamo a collegare il nostro cavetto a spirale alla nostra videocamera possiamo prolungare questo cavo e quindi arrivare fino al telecomando molto agevolmente con il nostro cavo di prolunga. Anche questa è una cosa molto molto utile perché se avessimo un cavetto a spirale lungo così saremo veramente limitati nel dover seguire la fotocamera in ogni suo piccolo movimento invece con un cavo più lungo lavoriamo devo dire abbastanza agevolmente. Ora andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questo slider e vi dico già che non vi parlerò oggi di tutte le sue funzionalità perché non le ho ancora adoperate tutte e quindi non posso parlarvi di tutte le funzionalità con coniezione di causa perché molte non le conosco quindi rischierei di essere impreciso di dirvi delle cose non esatte rischierei comunque di andarvi a spiegare una cosa che non so perché non ci ho ancora messo bene mano quindi vi parlerò solamente della modalità video manuale che è la mia modalità preferita in realtà in quanto noi abbiamo la possibilità di gestire via telecomando tutti i movimenti del nostro slider quindi io gli posso dire che mi deve fare una carrellata standard quindi un movimento dritto lungo l'asse dello slider oppure gli posso dire che mi deve fare una ripresa pan oppure gli posso dire che mi deve fare una ripresa parallax ora sono tutte cose molto molto utili quando si tratta di video e molto interessanti e questo slider permette di gestirla in maniera veramente veramente semplice infatti come potete vedere noi abbiamo una sbarra centrale che viene fissata tramite due viti poste all'estremità nel momento in cui questa sbarra è mantenuta dritta noi andremo a realizzare un semplice movimento camera assolutamente dritto nel momento però in cui noi andiamo a ruotare questa sbarra automaticamente la nostra testa rotante eseguirà un movimento di pan o di parallax questi due movimenti gestiti in questa maniera sono veramente interessanti perché danno veramente qualcosa in più alle nostre riprese ora le riprese che vi ho già fatto vedere che vi riproporrò nel corso del video sono di tipo parallax quindi io che cosa ho fatto ho svitato le mie viti sul mio braccio centrale e le ho ruotate in senso anti orario quindi ho portato la sinistra in basso e la destra in alto scusate voi lo vedete al contrario ora facendo questo che cosa succede nel momento in cui io vado a realizzare il mio movimento camera la mia camera tilterà automaticamente e tilterà nella maniera che io gli ho detto quindi nel momento in cui io l'ho impostato per realizzare una ripresa di tipo parallax andrò a settare qual è il centro della mia ripresa e la mia videocamera spostandosi da una parte all'altra andrà a ruotare in maniera tale da tenere il soggetto sempre nel centro un tipo di ripresa di grandissimo effetto veramente veramente bella se io avessi voluto fare il contrario avessi voluto fare una ripresa pan avrei fatto esattamente il contrario ovvero avrei invertito la rotazione della mia sbarra centrale avrei sempre svitato le viti l'avrei ruotata in senso orario quindi avrei portato il braccio sinistro in alto il braccio destro in basso in questo modo ottengo esattamente il contrario nel senso che di nuovo oriento la mia camera all'esterno questa volta invece che all'interno e durante lo scatto la mia camera ruoterà e andrà quindi a eseguire uno scatto che comprenderà una porzione più ampia di quello che io ho di fronte queste due modalità sono secondo me le migliori le più interessanti in assoluto perché realizzare semplicemente una carrellata parallela è una cosa che sì è molto bella da vedere sicuramente è una cosa che a mano libera non ci riesce di fare però per quella esistono dei trucchetti o potrei per esempio posizionare la mia fotocamera sull'asciugamano sopra un tavolo e trascinarla quella è una cosa che si fa già è un trucchettino che avrete magari già visto in altri video ci si può appoggiare su un tavolo e semplicemente strisciare la videocamera sopra quel tavolo quindi è una cosa ovviamente un po raffazzonata però dà degli ottimi risultati è una cosa questa che si riusciva già a fare mentre realizzare soprattutto una ripresa parallax vi dirò perché una ripresa col pan quella si riesce a fare anche col gimbal a tre assi perché stiamo comunque parlando di un qualcosa di più ampio nel momento in cui io realizzo una ripresa pan sto partendo con la videocamera di qua e mentre giro la mia videocamera fa questo movimento quindi si sposta e contemporaneamente ruota quindi sto abbracciando una porzione di ripresa di ambiente abbastanza ampia tutto sommato nel momento in cui faccio un tipo di ripresa parallax invece potenzialmente io sto riprendendo solamente la capocchia di questo microfono quindi io posiziono la mia camera qui in modo che prenda la capocchia del microfono la faccio muovere fino ad arrivare dall'altra parte e sta sempre puntando per tutto il percorso alla capocchia del microfono è un tipo di ripresa più piccolo è un tipo di ripresa che beneficia molto di più di questo tipo di movimento soprattutto se realizzato con uno slider motorizzato nel momento in cui noi vogliamo fare questo tipo di scatto con un gimbal a tre assi vi assicuro che facciamo molta fatica perché anche se ci muoviamo bene anche se realizziamo bene il tipo di ripresa ci sarà sempre qualche sussulto dovuto al fatto che siamo esseri umani respiriamo il nostro cuore batte abbiamo una serie di movimenti fisiologici interni che ci impediscono di rimanere perfettamente fermi con uno slider motorizzato questo problema non sussiste più perché è composto di parti meccaniche che non respirano e quindi riesce perfettamente a fare questa ripresa laddove noi poveri umani falliamo miseramente andiamo un attimino a vedere come si imposta il nostro slider motorizzato per realizzare questo tipo di ripresa la prima cosa da fare ovviamente è inserire la batteria successivamente andiamo a inserire il nostro cavo di collegamento che ha una porta usb per il telecomando e una porta strana di altro tipo che va a essere infilata dentro nell'alloggiamento del nostro slider si capisce quali sono i pezzi c'è dentro un libretto di istruzioni che ve lo spiega ma comunque lo capite subito perché vedete quali sono i connettori dentro nel vano di alloggiamento dello slider vedete subito qual è il pezzo che corrisponde tra l'altro è l'unico che termina con una presa usb quindi si capisce subito qual è la cosa è molto semplice perché andiamo a prendere semplicemente il nostro telecomando e la nostra batteria qui ci sono i poli qui ci sono i fori sulla batteria e noi andiamo a inserire la batteria in questo modo molto molto semplice a questo punto abbiamo in mano il nostro telecomando bello pesante con la sua batteria innestata sotto al telecomando abbiamo il bottone dell'accensione ovviamente questo regola l'accensione dell'intero dispositivo in quanto la batteria è connessa qui quindi è da qui che viene tutta la potenza che viene poi elargita al nostro slider nel momento in cui noi andiamo ad accendere il nostro dispositivo noi qui abbiamo settings e abbiamo la possibilità di scegliere video shot time lapse oppure impostazioni varie all'interno di impostazioni si può scegliere la lingua del nostro dispositivo ma io lo tengo così perché nel caso mi venissero dei dubbi e quindi dovessi andare a consultare il libretto di istruzioni o guardare dei tutorial online so già come si chiameranno le impostazioni in inglese quindi mi viene più comodo come vi dicevo noi possiamo navigare con i tasti direzionali ora io vado a selezionare video shot perché è quello che mi interessa ora noi qui abbiamo auto mode auto mode ci permette di impostare un punto di partenza e un punto di fine per il nostro movimento di camera questa è una cosa molto carina anche perché c'è la possibilità di metterlo a loop quindi c'è la possibilità di dire al nostro slider che una volta impostato il punto di partenza il punto di arrivo deve ripetere il movimento a loop questa è una cosa che sembra banale ma è molto interessante perché nel momento in cui io stessi per esempio realizzando questa ripresa che state vedendo adesso io potrei avere una camera principale che fa questa inquadratura dopodiché potrei avere il mio slider posizionato lievemente a lato e potrei impostarlo in maniera tale che continui a pendolare a loop tenendo sempre tutto lo sfondo incluso dentro nella ripresa e magari prendendo degli scorci di quello che io sto dicendo in maniera tale da poter montare le due riprese questa è una cosa molto utile in ambito di video making anche quando si realizza un video semplice come questo perché comunque avere la possibilità di includere una seconda ripresa in movimento aggiunge tantissimo alla nostra narrazione al nostro video quindi la possibilità di tenere a loop questo dispositivo è una cosa assolutamente da non sottovalutare ma io non voglio farvi vedere questa modalità loop oggi perché come vi dicevo non l'ho ancora utilizzata invece quello che mi interessa farvi vedere è la modalità manuale ora io vado a premere il mio bottone centrale ed eccoci qui all'interno della modalità manuale a questo punto come vi faccio vedere se io premo i tasti direzionali in alto in basso sto agendo sulla velocità del dispositivo quindi la velocità della mia ripresa dipende dalla speed che io vado a impostare in questo momento nel momento in cui vado invece a premere i tasti destra e sinistra sto già compiendo il mio movimento camera quindi il mio slider si muoverà a sinistra o a destra a seconda del tasto che premo ovviamente bisogna stare attenti quando si utilizza la modalità manuale a non arrivare quasi mai a fine corsa perché se io arrivo a fine corsa e continuo a tenere premuto il mio slider si inceppa e vado a danneggiare la cinghia di distribuzione quindi non lo devo fare quando il mio slider arriva a fine corsa devo mollare il pulsante prima è una cosa molto importante perché altrimenti rischiamo di andare a compromettere e danneggiare il nostro device ovviamente posso fare i movimenti sia da una parte che dall'altra nel momento in cui premo il mio slider si muove nel momento in cui rilascio il mio slider si ferma questo a me piace molto perché mi dà controllo pieno su quello che sto facendo posso decidere i movimenti che sto andando a fare questo unito al fatto che posso scegliere di fargli fare un movimento di parallasse o di panning mi aiuta a realizzare la ripresa esattamente come la desidero è una cosa che inizialmente può sembrare un po' macchinosa perché bisogna capire di quanto bisogna orientare il braccio centrale per fargli fare il movimento che vogliamo tuttavia una volta capita la dinamica che regola il nostro device diventa assolutamente facile e confortevole da utilizzare è pur sempre vero che le modalità automatiche la modalità loop ci consentono di fare molte cose in più rispetto a quello che possiamo fare in manuale per esempio noi possiamo programmare un movimento camera e una volta che l'abbiamo programmato possiamo ripeterlo questo può servire per aggiungere cose in post produzione o realizzare una ripresa più volte realizzare uno scontorno magari su green screen e poi fare la stessa ripresa con un ambiente vero quindi questo è veramente veramente molto utile nel momento in cui vogliamo fare anche della post produzione io non credo che lo utilizzerò per questo perché non mi capita quasi mai di avere clienti che mi chiedono il green screen è successo qualche anno fa ma ormai non capita praticamente più quindi io userò questo dispositivo quasi esclusivamente per fare still life in studio come già vi dicevo è un device che mi sento di consigliarvi allora dipende mi sento di dirvi che ha una qualità che è assolutamente in linea con quello che costa quindi non sono assolutamente soldi sprecati vi dico anche che è un device difficile da usare non è divertente da usare nel senso che non è un gimbal motorizzato a tre assi non è una cosa che ci si porta quasi in tasca o nello zaino e poi all'occorrenza si tira fuori e si fa la nostra ripresa non è quella quel tipo di device è un device complesso è un device molto più professionale quindi è una cosa che ha bisogno della sua custodia da trasporto rigida perché altrimenti non lo portiamo da nessuna parte ha bisogno di un cavalletto dedicato perché questa è una cosa aggiuntiva che vi dico io ho acquistato solamente lo slider motorizzato sapendo che c'era bisogno di un cavalletto per farlo operare al meglio so anche già quale tipo di cavalletto andrò ad acquistare ed è un cavalletto che costa 160 euro quindi diciamo che qui la cifra si va ad alzare stiamo parlando di 540 560 euro per avere il pezzo completo che funziona in tutte le situazioni in questo momento io ho solo uno slider motorizzato che può funzionare con i suoi quattro piedini d'appoggio posizionato su un tavolo è molto limitato il tipo di ripresa che posso fare posandolo su un tavolo perché capite bene che in questa maniera posso solo fare delle riprese dentro casa e fare delle riprese a qualcosa che metto sul tavolo e che riprendo da pochi centimetri di distanza quindi è veramente limitato l'utilizzo che ne posso fare capite bene però che al di là di questa difficoltà quindi di dover avere anche un cavalletto al di là della difficoltà di dover comunque lavorare su un minimo di set preimpostato perché un strumento come questo se lo utilizziamo per riprendere che cavolo ne so la strada sotto casa per quanto bello possa essere il movimento non sarà pagante come se stessimo facendo un qualcosa su cui abbiamo lavorato un set di still life che abbiamo curato e su cui abbiamo lavorato sarà più bello di una ripresa della strada sotto casa nostra anche se ci può essere il panno il tilt lo shift tutto quello che vogliamo tutto quello che noi inseriamo dentro in una ripresa della strada sotto casa nostra non sarà mai bello perché semplicemente è una ripresa che non ha niente di cinematografico non ha niente di epico non ha niente di interessante non è che questo device automaticamente ci permette di fare riprese fighe in ogni situazione anzi è uno strumento molto dedicato che useremo in poche situazioni lo useremo solo quando ci serve io per esempio l'ho preso per fare questo l'ho preso per fare delle riprese di oggetti piccoli per fare delle riprese fluide molto molto stabili e lente soprattutto perché io potrei anche fare delle riprese rapide col mio cellulare magari con i 120p con i 240p quindi in slow motion poi viene una ripresa fluida ma non è la stessa cosa per un sacco di motivi intanto perché con il mio cellulare faccio fatica perché quando utilizzo i 240p sto andando a cozzare con la corrente a 50 hertz che utilizziamo qui in italia quindi avrò il fastidiosissimo effetto flickering su tutti i miei video questa è una prima problematica in secondo luogo nel momento in cui io faccio delle riprese a mano col telefono con lo slow motion sto affidandomi completamente al caso perché non ho nessun controllo su quello che sto riprendendo ho un minimo di controllo nel senso che faccio un movimento e sto incrociando le dita perché comunque col telefono non viene stabile viene una cosa che può essere passabile ma non avrò mai controllo su quello che sto facendo invece in questo caso io ho il pieno controllo sul movimento camera che sto facendo lo posso replicare perché comunque una volta impostato lo posso replicare e ho il controllo anche sul focus perché a questo punto non sto usando il telefono il telefono tiene più o meno tutto a fuoco nel momento in cui utilizzo questo device sto utilizzando magari una fotocamera o videocamera anche di un certo livello quindi ho un bel sistema di messa a fuoco che può ancorarsi al mio soggetto e tenere sempre a fuoco quello oppure posso addirittura programmare la camera per fare un cambio di fuoco mentre sto facendo la mia carrellata quindi c'è tutto un mondo di possibilità che mi si apre è un device altamente professionale è una cosa che secondo me useremo poco quindi io consiglio l'acquisto solamente se avete una stretta necessità di utilizzare questo dispositivo per fare delle riprese quindi se fate still life o se fate interni perché no perché questo può servire per fare dei bei movimenti di panning all'interno di una struttura anche se lì io vi direi di andare di gimbal a tre assi non avete bisogno di un device come questo per fare degli interni non è indispensabile mentre per fare delle riprese di oggetti piccoli molto molto fluide è assolutamente indispensabile lì è veramente è il motivo per cui ho deciso di acquistarlo ed è il motivo per cui ve ne sto parlando perché lì veramente questo slider dà il meglio di sé parlando un attimo della ripresa questa ovviamente è strettamente connessa al tipo di camera da presa che monteremo sul nostro slider riusciamo ad avere delle camere anche abbastanza complesse perché questo slider regge abbastanza peso quindi possiamo tranquillamente montargli su delle lenti abbastanza ingombranti ovviamente dobbiamo sempre stare attenti al tipo di ingombro e al tipo di inclinazione perché se montiamo un super cannone può essere che lo slider faccia fatica a eseguire correttamente i movimenti e può essere che si sbilanci avanti piuttosto che indietro perché comunque non è pensato per tenere montata una lente particolarmente lunga movimenti di camera come questi tenete conto che secondo me non li farete mai con un 200 mm non li farete mai con un 300 mm secondo me il massimo che potete utilizzare è un 100 mm ma molto meglio se stiamo su lunghezze focali inferiori quindi se stiamo su un 50 mm 85 mm 70 mm 100 mm questi sono tutti i range che questo slider gestisce alla perfezione ed è tutto quello che vi serve veramente perché andare a utilizzare una lente molto lunga per fare movimenti camera di questo tipo secondo me è assolutamente inutile diventa sconveniente e scomodo mentre se stiamo usando per esempio per fare fotografia videografia di prodotto stiamo usando un 85 mm riusciamo a fare una ripresa molto molto carina stando alla distanza corretta dal soggetto se montiamo un 300 mm dobbiamo andare così tanto indietro che diventa inutile avere allestito il nostro slider siamo così lontani ormai che diventa veramente scomodo fare la nostra ripresa e otterremo pressoché lo stesso risultato ma facendo molta più fatica devo come sempre specificare che purtroppo gvm non mi ha dato soldi per realizzare questo video io continuo a ripeterlo se qualcuno mi vuole dare soldi per recensire un prodotto io li accetto perché tanto nel momento in cui io vengo qui a parlarvi di un prodotto fondamentalmente vi dico i motivi per cui io l'ho acquistato e vi dico perché secondo me questo prodotto è valido poi ci possono essere mille cose che altri competitor hanno fatto meglio ci sono degli slider motorizzati che costano molto di più ce ne sono molti che sono migliori più performanti più robusti reggono un peso migliore sono magari più facili da trasportare più compatti tutto quello che volete ma questa non è una comparazione tra questo prodotto e altri prodotti della stessa fascia perché io non ne ho altri quindi vi faccio vedere solamente questo e vi dico semplicemente che cosa mi è piaciuto ovviamente potrei stare a dirvi che avrei voluto un telecomando più bello che avrei voluto un display touch che avrei voluto no ecco ma questa è una cosa invece che ho fortemente ricercato un telecomando dedicato vi spiego perché io sono stanco marcio di device che hanno bisogno di connettersi al mio telefono cellulare non ne posso più io ho il cellulare che è intasato di app perché qualsiasi cosa io stia usando si deve connettere al cellulare ormai abbiamo le luci di casa che devono essere regolate via cellulare abbiamo il computer con la luminosità che si regola da cellulare abbiamo la videocamera che si accende si spegne via cellulare non puoi più fare niente senza tenere il cellulare in mano e questo per me è un grandissimo disagio perché io qualsiasi cosa stia facendo magari potrei avere necessità di confrontarmi con un collega di sentirlo al telefono di fare un'altra cosa potrei voler fare un b-roll di quello che sto facendo con il telefono potrei voler fare una ripresa aggiuntiva con il telefono potrei avere il telefono scarico potrei stare parlando con mia nonna in una qualsiasi di queste situazioni io non potrei fare niente perché avrei il telefono immobilizzato che sta servendo per far funzionare il mio device questa è una cosa che io ho fortemente ricercato ho ricercato uno slider motorizzato con il suo stramaledetto telecomando e quindi io posso stare qui a dirvi che il design di questo telecomando non mi piace non mi fa impazzire ed è molto plasticoso però è una critica abbastanza sterile perché alla fine se vi dovessi rispondere alle domande ma funziona bene ti sei trovato bene la risposta è sì cioè il telecomando non è bello da vedere però funziona fa il suo dovere è molto pratico molto funzionale perché ha solamente cinque tasti sei con il bottone di accensione quindi è una cosa che funziona benissimo io posso stare qui finché vogliamo a lamentarmi di cose magari che io avrei fatto meglio però poi penso anche se magari mi facevano un telecomando di design bellissimo che sembrava il magic mouse della apple costava mille il prodotto allora dico no aspetta gvm ha fatto un ottimo lavoro perché ha mantenuto questo prodotto dentro un range di prezzo assolutamente abbordabile e se questo mi comporta che il telecomando sia un pochino plasticoso a me va bene perché comunque riesco a fare i movimenti che voglio mi dà la fluidità che mi serve è anche un bel prodotto è comunque un bell'oggetto alza di parecchio il livello di alcune mie produzioni video francamente lo consiglio solamente ai professionisti del settore non consiglio un device di questo tipo a degli amatori perché non perché non lo sappiano usare perché un amatore ci riesce benissimo fa le stesse cose che farei io prova due movimenti camera capisce come funziona vi assicuro che non è stato istantaneo per me ho comunque dovuto leggermi un attimino le istruzioni e ci ho messo 20 minuti a capire il corretto funzionamento del tutto montarlo impostarlo correttamente ci ho perso un bel 20 minuti io sono sono vergine di slider motorizzato quindi questo è il mio primo slider motorizzato ci ho perso un po di tempo un amatore ci metteva magari 10 minuti più di me ma magari ce ne metteva 10 meno perché magari era più smart lui magari era più pratico su componenti meccaniche quindi non è assolutamente detto il punto qual è io non lo consiglio a un amatore perché un amatore secondo me lo prova la prima volta poi lo mette via e non lo usa mai più perché un amatore non avrà quasi mai la necessità di fare una cosa del genere e soprattutto un amatore penserà ma io devo far voglio far vedere il piatto che mi sono cucinato magari alla mia compagna che sta da un'altra parte le voglio mandare alla ripresa dei gnocchetti col gorgonzola che mi sono fatto in casa ma lo faccio col telefono non ha senso che io devo tirar fuori tutto stambaradani imbastire tutto un set per farle una ripresa che poi scarico sul computer la esporto la rimetto sul cellulare non ha senso un utilizzo amatoriale non ha assolutamente senso questo è un utilizzo esclusivamente professionale secondo me quindi devo fare delle video interviste faccio pendolare la mia camera avanti indietro in loop in maniera tale da avere più angolazioni della persona intervistata sto facendo dello still life con della componentistica piccola faccio le mie riprese magari belle lente belle fluide dei miei pezzi così ho delle riprese video di qualità eccelsa da far vedere ai miei clienti o da mettere nel mio showreel eccetera eccetera questi sono utilizzi per cui assolutamente mi sento di consigliare un prodotto come questo per un amatore lo sconsiglio veramente anche perché tenete conto che la borsa non è ingombrante ma non è neanche piccola quindi comunque è un bel ingombro che ci dobbiamo portare dietro sono 80 centimetri di slider quindi sono 85 centimetri di borsa non è piccola inoltre tenete conto che ci dobbiamo anche portare dietro il suo cavalletto il suo treppiede perché non possiamo utilizzarla in esterna così quindi se la vogliamo utilizzare in esterna ma anche in interni a meno che non la teniamo fissa sul tavolo ma così è molto limitante dobbiamo portarci dietro anche un treppiede da 160 euro è un treppiede molto grande molto ingombrante perché è fatto apposta per reggere un device come questo che ha una bella escursione di peso quindi deve essere molto stabile deve reggere anche se la videocamera si sposta da una parte all'altra diciamo che tutto la maradan diventa veramente molto pesante da gestire io non ce lo vedo un amatore che va in giro con uno zaino solamente per questa roba perché poi è un utilizzo veramente molto limitato che se ne fa ma anche per me sarà un utilizzo molto limitato questa è una piccola piccolissima miglioria che mi dà la possibilità di avere delle riprese più belle in dei piccolissimi contesti in cui vado a realizzare dei micro video di prodotti soprattutto che mi vengono mandati mi consente di fare delle cose molto molto carine che altrimenti non riuscirei a fare tuttavia stiamo parlando assolutamente di ambito professionale stiamo parlando comunque di un utilizzo molto limitato che ne farò e anche per questo voglio dotarmi dell'adattatore da 12 volt per poter far funzionare il telecomando via corrente e adesso io devo anche andare a informarmi su che tipo di batteria è e qual è la sua corretta manutenzione del suo corretto utilizzo perché alcune batterie funzionano molto bene se tu continui a usarle quindi continui a caricarle completamente continui a scaricarle completamente altre batterie vivono meglio se le lasci a riposo quindi le tieni magari cariche per il 60 per cento ma le lasci lì io non credo che a questa batteria faccia bene essere caricata completamente e poi essere usata per il 3 per cento e poi essere lasciata lì poi di nuovo essere ricaricata perché quando la riutilizzi dopo tre mesi la ricarichi di nuovo e poi di nuovo essere usata per il 6 per cento non credo che le faccia molto bene un tipo di utilizzo di questo tipo perché comunque questo è un device dove secondo me quando andiamo a realizzare la nostra ripresa ci mettiamo poco a realizzare la ripresa quindi non usiamo mai tutta la batteria per questo preferisco andare a utilizzare la corrente mi dà più affidabilità sono più tranquillo so che non sto ammazzando la mia batteria caricandola continuamente e non scaricandola mai quindi questa per me è una cosa in più che andrò a prendere così come andrò a prendermi anche il treppiede è tutta una spesa in più e è un device complicato da usare come vi dicevo quindi la mia recensione è assolutamente positiva tuttavia vi devo dire che non so se lo consiglio a tutti anzi non lo consiglio a tutti lo consiglio solamente se sapete esattamente per cosa usarlo nel momento in cui vi nasce la necessità e dite io magari io sono un coltivatore io faccio allevo orchidee voglio dei video delle mie orchidee che sono piccole di fiorellini voglio dei bei video con con la parallasse delle mie orchidee allora sì uno può dire faccio questo acquisto perché ho uno scopo ben preciso non pensiate di comprarlo per vedere com'è ecco perché è un sono veramente soldi sprecati se lo prendete per vedere com'è sono tanti soldi lo prendete vedete com'è vedete che è bello e poi non lo usate più quindi consiglio è un ottimo prodotto ma solo se avete un'esigenza specifica a questo punto io vi ricordo che se volete sostenere questo canale potete mettere un bel like a questo video lasciatemi anche un commento se avete domande curiosità se volete vedere qualcos'altro iscrivetevi anche a questo canale così rimarrete aggiornati su tutte le prossime novità inoltre vi ricordo che se volete essere sicuri di non perdervi nessun contenuto potete attivare la campanella non costa niente e così avrete una notifica quando vengono caricati dei nuovi contenuti con questo credo che sia veramente tutto amici io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale 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 iscriviti al canale